Il ladro silenzioso della vista è così che viene definito il glaucoma malattia degli occhi che è la principale causa di sciacità irreversibile nel mondo ma cerchiamo di capirne di più con l'aiuto del dottor Matteo Piovella presidente della società oftalmologica italiana al quale abbiamo chiesto appunto cos'è il glaucoma, quali sono le cause e come ci si accorge di averlo. Noi abbiamo un problema che da qui al 2030 il numero delle persone cieche è destinato nel nostro paese come in altri nonostante tutte le tecnologie a raddoppiare e questo è veramente una responsabilità. Il glaucoma è una malattia complicata, complicata perché non c'è la percezione di averla, per esempio il paziente si sente in perfetta salute e quando fa i controlli della sua vista è pienamente soddisfatto. Questo dipende dal fatto che a un certo punto il normale equilibrio della macchina fantastica, che è la macchina più sofisticata del nostro corpo, naturalmente dopo il cervello, molto più sofisticata del cuore, a un certo punto ha degli squilibri interni. Questi squilibri sono dovuti a un meccanismo molto semplice. Nell'occhio ci sono dei liquidi, questi liquidi ovviamente devono essere trasparenti. Per poter essere trasparenti bisogna cambiarli tutti i giorni, quindi questo avviene in natura, in modo perfetto. Tanto liquido viene prodotto durante le 24 ore, altrettanto fuoriesce. Come succede nella nostra lavatrice? Nel tempo il filtro dell'occhio, il canale di scarico, si intasa. Questo crea uno squilibrio perché non si riesce più a evacuare dall'occhio la stessa quantità di liquido. Aumenta la pressione dell'occhio, che non ha niente a che vedere con la pressione del sangue, mi raccomando, e questo aumento di pressione schiaccia le fibre del nervo ottico. Il nervo ottico, che è molto sensibile perché il nostro filo, la nostra prolunga che arriva al cervello, viene danneggiata. È come se con la forbice, poco per volta, tagliamo questi centinaia di milioni di fibre che ci fanno vedere. Quindi si chiama ladro silenzioso della vista proprio perché ci si accorge di avere il problema solo quando la vista se ne sta andando. E a quel punto non abbiamo sistemi per recuperare. Le cause sono delle cause naturali, cioè è ovvio che, prima di tutto, c'è un'ereditarietà, che non vuol dire che se i genitori o i parenti hanno la malattia glaucomatosa questa debba assolutamente arrivare nei figli o nei discendenti. Però è una lampadina che mette l'attenzione su quella che è la soluzione più semplice. La soluzione più semplice è quella di farsi controllare. Per questo motivo la società oftalmologica italiana, da 15 anni, ha dato un calendario delle visite per garantire la vista per tutta la vita. Una visita oculistica sembra incredibile alla nascita. Entro i tre anni di età, il primo giorno di scuola, dagli 8 ai 12 anni, perché la miopia, sapete tutti, sta diventando una cosa estremamente diffusa nei teenager, poi passiamo ai 40 anni, dove incomincia la problematica del glaucoma, dai 40 ai 60 anni ogni due anni, e dopo i 60 anni una volta l'anno. Abbiamo delle problematiche da superare, dovute ad antiche esperienze e modelli organizzativi che oggi non sono più in grado di sostenere tutti i passi avanti, e soprattutto tutte le tecnologie diagnostiche che prima onestamente non c'erano, quindi non creavano nessun problema, per cui abbiamo bisogno di cambiare il modello. Il modello è, la visita oculistica va fatta secondo le indicazioni che abbiamo appena dato, ma contestualmente alla visita oculistica, oggi la visita oculistica deve comprendere anche gli esami diagnostici, perché altrimenti facciamo una diagnosi meno precisa e meno efficace. Si può prevenire il glaucoma? Quanto sono importanti prevenzione e diagnosi precoce? Importantissimo l'intervento in tempo e le liste d'attesa, non per colpa di qualcuno, ma perché la richiesta di cura e di diagnosi è aumentata negli ultimi anni di 10 volte, quindi è un'impresa impossibile quasi far fronte a tutto. I 7000 medici oculisti italiani sono sufficienti per fare tutto questo, però ci vuole un salto di qualità di attenzione, un salto di qualità di risorse che servono semplicemente ad acquisire le nuove tecnologie, se no sono poco diffuse e quindi sono poco efficaci. Quindi l'appello che noi facciamo è proprio un appello di informazione con tutti i cittadini. La vista è fondamentale, rappresenta l'83% delle nostre relazioni col mondo esterno, quindi quando abbiamo un problema di vista abbiamo una penalizzazione incredibile, abbiamo gli strumenti, utilizziamoli, perché la vista è un valore preziosissimo e purtroppo, non è una critica, ce ne accorgiamo proprio nel momento in cui abbiamo delle difficoltà. Il glaucoma è una patologia curabile? Ma tutto è molto ben codificato. Ha detto bene lei, la prima cosa è sapere di averlo. Una volta identificata questa malattia, noi attuiamo una terapia con dei colliri, colliri che hanno la capacità di ridurre la produzione di liquido giornaliero senza arrecare danni alla struttura, in modo che la pressione si compensa, perché si produce meno liquido e va a compensare la minor capacità di scarico. L'importante anche qui è seguire la terapia, perché le sembrerà strano, ma per molte persone è difficile ricordarsi di mettere le gocce magari due volte al giorno, ma comunque questo con un po' di organizzazione e pazienza si supra. Se questo non è sufficiente, ovviamente abbiamo gli interventi chirurgici che semplicemente hanno lo scopo di creare un canale di scarico, cioè un nuovo canale di scarico a livello chirurgico, che permette una migliore fuoriuscita di questi liquidi e quindi la situazione si tiene sotto controllo. Qual è il problema reale? Il problema reale è quando arrivano dei pazienti che magari sono in uno stato avanzato, perché il danno del campo visivo, cioè a livello retinico, una volta che è avvenuto per queste motivazioni non è recuperabile. Da domenica 10 a sabato 16 marzo torna in Centopiazze Italiane la settimana mondiale del glaucoma. Io direi che questa settimana del glaucoma è proprio una cosa importante, proprio per accendere la luce su tutte queste opportunità, perché io non le chiamerei difficoltà. L'oculistica oggi ha avuto un cambiamento straordinariamente positivo e questo è un miracolo. Oggi addirittura siamo in grado di superare il sogno di ogni cittadino. Quando si fanno gli interventi, per esempio, di cataratta, che è l'intervento maggiormente eseguito al mondo, 650.000 interventi all'anno, abbiamo la possibilità incredibile di eliminare tutti i difetti di vista. Io trovo che queste informazioni, che devono essere anche positive, perché non possiamo essere sempre negativi o mettere in stress le persone, dobbiamo dare una conoscenza positiva e metterci a disposizione e fare in modo che questa metodologia di salute, che è straordinariamente migliorata, sia veramente alla portata di tutto.